La più allarmante criminalità organizzata del territorio pugliese, così viene definita l'organizzazione mafiosa Libergolis nel provvedimento cautelare che ha disposto l'arresto per 39 presunti affiliati nel Fuggiano in seguito all'operazione Mari e Monti condotta da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, altri reati in materia di droga e armi e diversi episodi di estorsione, rapina, furto e favoreggiamento. Gli arresti sono stati eseguiti tra Foggia e i comuni della provincia ma anche in altre regioni. Tre degli arrestati, ritenuti i capi dell'organizzazione criminale, erano già in carcere in regime di alta sicurezza. Per loro è stato disposto il 41 bis perché secondo i PM il regime di alta sicurezza non è idoneo a contenere la pericolosità delle più alte figure mafiose che dall'interno del carcere riescono a dirigere le organizzazioni criminali. Oltre ai tre presunti boss, altre 36 persone tra cui una donna, ritenute appartenenti al clan, sono finite in carcere, due di loro ai domiciliari. Complessivamente sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro. Una realtà di straordinaria pericolosità perché la dimensione violenta, vessatoria, intimidatoria di questo gruppo mafioso si associa anche a una straordinaria capacità di operare nella modernità per così dire, che sia quella del traffico internazionale di stupefacenti sia quella delle operazioni di riciclaggio. Secondo gli inquirenti il clan aveva un ruolo significativo nella rete del narcotraffico internazionale ponendosi come affidabile interlecutore dei cartelli criminali albanesi e di importanti cosche dell'Andrangheta. Con i soldi del narcotraffico il clan si è radicato nel tessuto economico locale imponendo alle imprese forniture e assunzioni. Il provvedimento avrebbe dovuto coinvolgere altre sette persone nel frattempo decedute in una vera e propria guerra tra i Libergolis e un'altra organizzazione mafiosa garganica, i Romito Ricucci Lombardi, una rivalità che dal 2009 ha portato a 21 omicidi e 18 tentati omicidi.